Ottimo lavoro, pronti per il prossimo round. Cerca e distruggi veterano. Proteggete l'obiettivo. La bomba è innescata. Proteggete l'obiettivo. Ottimo lavoro, preparatevi al prossimo round. Cerca e distruggi veterano. Difendete gli obiettivi. 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 BOMBA ONLINE BOMBA ONLINE Ottimo lavoro, preparatevi al prossimo round. Intervallo. Cerca e distruggi veterano. Neutralizzate gli obiettivi. Approvvigionamento in arrivo. La bomba è nostra. Non è l'attacco in azione. Ber지만, la bomba è stata rare del loro partimento. Miuvi, la bomba è stata rilassata. Non è l'attacco dei loro partimentali. Non è l'attacco. setzt una bomba. Non è l'attacco in azione. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.